La tenuta del sole, non molto distante dalla città di Novara, vi offre la luminosità dei propri spazi per costruire un evento nuziale da sogno. La tenuta può ospitare banchetti nuziali nella sala interna, in grado di ospitare da 160 persone con tavoli rotondi a 250 ospiti organizzati attorno a comode tavolate. Buffet, pranzi e cene possono essere serviti, sia a buffet che al tavolo, anche lungo il bordo della meravigliosa piscina, perfetta per allietare gli ospiti durante la bella stagione. Gli incantevoli spazi all'aperto, inoltre, possono fare da sfondo alla cerimonia di nozze se ciò che desiderate è scambiarvi le promesse d'amore all'interno della tenuta. La tenuta del sole organizza un banchetto nuziale al giorno, occupandosi degli allestimenti e della stampa dei menù, organizzando il servizio di musica dal vivo e adibendo i suoi straordinari ambienti, in particolare il giardino zen, come sfondo per le fotografie degli sposi. L'offerta gastronomica è estremamente varia e genuina, abbondano i piatti a base di verdure e le varietà di pasta, così come ampia e genuina è la scelta di dolci e frutta. Ogni portata, inoltre, viene accompagnata da vini di altissima qualità, prodotti dalla stessa tenuta. Gestita da un personale altamente qualificato e dotata di incantevoli spazi adatti a ogni esigenza, la tenuta del sole sarà la perfetta cornice per il vostro ricevimento nuziale. Grazie